Ciao a tutti e eccomi qua con un nuovo gioco da mostrarvi Si tratta di Magic Rush Heroes Un gioco per dispositivi mobili Che è un miscuglio di gioco di ruolo Strategico e addirittura tower defense Proprio uno dice Facciamo un gioco che riacchiude tutti i giochi Ed eccolo qua Diciamo La parte principale di Magic Rush E diciamo c'è questa campagna Dove voi farete dei combattimenti Ve ne faccio vedere uno facile Così posso mettere con calma piano piano tutto E vi faccio vedere tipo questo qua Allora voi selezionate il livello che volete fare Potete scegliere se farlo a difficoltà normale Dopo un po' si sbloccheranno gli elite Dopo un po' si sbloccheranno le leggende Che sono praticamente gli stessi stage però Con difficoltà più elevata Voi scegliete uno Dunque cosa dovete fare Ci sarà un costo da pagare Ovviamente la classica energia che qui è fatta come Diciamo Cosce di pollo Questa qui sarà la vostra energia Per fare Per fare i livelli Questa qua è l'energia Si ricarica ogni 10 minuti se non mi sbaglio O ogni 5 Comunque si ricarica Molto molto lentamente Qua avrete i gold Che guadagnerete durante le missioni E qua avete i diamanti Che sono diciamo la valuta Quella col cash che si paga Cosa vedete Io qui l'ho già completato con 3 stelle Qui c'è la potenza del nemico Rispetto al mio esercito a 4.500 Il nemico a 1.690 Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice Una volta che li avete completati a 3 stelle Gli stage Potrete direttamente vedere il risultato Poi dopo vi faccio vedere Invece di fare voi il combattimento Lo fate fare in automatico E prendervi le reward Allora Ma vediamo subito com'è Andiamo così E qui ci sono i miei eroi Si scelgono 5 eroi Io ho questo giro Ah no aspettate che ne prendo uno Dove c'ho un Dove non c'ho nessuno Che mi viene a rompere le palle Ok perfetto Perché sennò dovevo prendere un eroe Che mi aiutava E voglio far vedere questi qua Niente Voi cominciate Con questi 4 eroi qua Poi vi si aggiungerà la quinta Io adesso sono riuscito A prendermi anche questa E poi dopo vi spiegherò come Avere altri eroi Li posizionate Io ne posso portare 5 In questa missione Qui ci sono tutti i tank Oppure i tank Tiratore Sono divisi anche per gruppo Anche perché ce ne sono Un pochettino di eroi E partite all'attacco I caricamenti sono abbastanza veloci Potete mettere l'autobattle O potete mettere l'aumento di velocità In questo punto Combatteranno da soli Utilizzando le loro abilità La cosa che voi potete Diciamo attivare Sono quando La barra qua sotto Gialla Si caricherà Potrete usare Il loro colpo Uno dei loro colpi speciali O meglio Il loro colpo Più forte Nel caso di questa qua Lei È una curatrice Qui c'è il mio tank Adesso vi faccio vedere Come indirizzarli Allora Vedete Tenete premuto E selezionate dove metterlo Questo è un attacco Ad aria che stunna Facciamo così Puff Vabbè Li ho distrutti Con lei curo Vabbè Non vi fa Così Troppo forte Eh ho scelto il livello Un pochettino troppo basso Però Giusto per farvi vedere Come Come il nocciolo Del gioco Ah Si prendono premi In continuazione L'altra modalità Che vi volevo far vedere Era Per saltare Cioè Avendo abbastanza energia Si possono saltare direttamente I Gli stage E Ottenere direttamente Le reward In questo caso Ho ottenuto Un po' di esperienza In questo caso Se no qua Ho preso le rune E adesso vi faccio vedere A cosa servono Le rune Dunque Eh Anzi Prima vi faccio vedere Come evocare I Gli eroi Allora Ci sono Diciamo Due modi Per evocarli Principali Gli eroi Tramite la fontana Che qua Pagherete a soldi E A caso Vi capiterà O Altri Che sono Oggetti Pozioni Di esperienza E così via Oppure vi capiterà Un eroe Oppure Vi capiterà Un eroe Io fino adesso In questa modalità qua Non ho mai beccato Un eroe Quindi è così Se no poi c'è La modalità Con i diamanti Pagando Pagando diamanti Eh Qui è Qui si ha Due possibilità Su quattro Che siano Eroi E vabbè Al primo Ti danno un eroe Perché comunque Nel gioco Cioè nel tutorial Ti danno Un eroe A due stelle Subito Eh Ma poi dopo È sempre una roulette Che Se si ha fortuna Si trova Si trova L'eroe Altrimenti Vedete Questi qua Sono gli eroi Eh Poi L'altra modalità Per evocare Gli eroi È Andare a Prendere Dei loro Token Allora Nelle missioni Elite Vi faccio vedere Qua all'inizio Ecco la prima Sono sicuro Ecco Vedete C'è la pietra Dell'anima Di questo eroe Qua Questo Questo qui Il tankone Qui con Con l'ascia Con l'ascia gigante Eh Una volta ottenuto Un tot Di Di pietra Dell'anima Vi faccio vedere Qua Vedete Quando ne avrò Ottenute Dieci Lo potrò Evocare Queste pietra Dell'anima Poi Voi Continuerete A Collezionarle Per aumentargli Le stelle Dell'eroe Per esempio Faccio vedere Qua La mia Luffia Era partita Che aveva Una stella E adesso Ne ha due Perché L'ho potenziata Vedete Qua Con le pietre Di luffia Appunto E andate avanti Così Ce ne vorranno Tante Perché io Per fargli aumentare Di una stella Ho dovuto Riempire Tre volte La barra Non è una cosa Che ci mette Due secondi Un'altra cosa Che potete fare Qua E dare L'esperienza Che voi Troverete Gli elisire Per livellare I vostri eroi Questo è comodo Quando avete Un nuovo eroe E lo potete Subito Livellare Per portarlo Alla pari Degli altri Cos'altro C'è Poi Sempre Nella sezione Eroi Voi avete Qua le rune Praticamente Man mano Che fate i livelli Voi trovate Delle rune Se Poi Trovate Questi qua Vedete Io adesso Questi qua Diciamo Un po' rara Quindi ne ho solamente Due su cinque Una volta Che ce le ho Posso forgiare Il destriero Questa runa qua Una volta Che avete Forgiato Tutte le rune Darete nuove Abilità Al vostro eroe Può essere Un'abilità Come Più avanti Cioè Diciamo Anche Sbloccato Degli oggetti Di equipaggiamento Vedete Che Una volta Che si hanno Tutti Tutti quanti Dovrebbe Avere Un bonus Qualcosa del genere Poi Se invece Nel caso Che non sia Un oggetto Dell'equipment A essere Scoperto Voi Abiliterete Le nuove abilità Le abilità Ogni eroi Sono qua Vedete Lei avrà Altri due Tiri congelanti Che è quello lì Che sbloccherò La prossima volta Quelli che avete Già sbloccato Vedete Con i punti Abilità Che voi avete 15 al massimo Li potete aumentare Ogni 10 minuti Ve ne viene dato uno Il problema È che costano Poi anche In soldi E Ci vuole tanto Anche qui Di soldi Per livellarli L'equipaggiamento L'avete già visto Le rune qua Qua sono le caratteristiche C'è una cosa Simpatica Diciamo In questi eroi Qui Se voi li abbinate Nella maniera giusta Combatteranno meglio Per esempio Nuova reclota Anche se lui È un novizio Lui è molto dignitoso Questi qua Diciamo Sono gli eroi base E se lei gioca Con questi eroi Combatte meglio La stessa cosa Vale anche per gli altri Perché Nuova recluta Sono tutti loro La cosa divertente È questa F Cup Ovvero Coppa F Sono dei grandi Sono dei grandi Sono dei maniaci Eh come Ma bene o male In tutti i giochi Gli eroi C'hanno le tette giganti Però è questo qua Che io non riesco A capire Che come Abbia la Coppa F Perché questo È tutto Pieno di Tagli E cose varie Però vabbè Lasciamo stare Passiamo a Un altro lato Del gioco Vediamo la sezione Tower Defense Allora Sempre nelle campagne Ogni volta che voi Andrete avanti Nelle missioni Vi appariranno Questi cristalli Questi cristalli Servono Per fare Saranno Missioni Di Tower Defense Sì sì Continuo comunque Perché oramai Io l'ho già completata Pratica Come ogni buon Tower Defense Vedete Vi ricorda molto Un altro gioco Anche questo Vedete Voi piazzate Le vostre torri Piazziamo così Questa qui La mettiamo Qui Così Dai E facciamo inizia Qua avete i soldi Qua avete Quante vite Ha il vostro cristallo Nella modalità normale Ne ha dieci Nella modalità Più difficile Ne ha solamente uno Cioè passa un minion Siete Siete morti Una cosa Che voi potete notare Io non so Se voi avete Fatto caso Adesso che vi ho spiegato Ma comunque sto andando Un po' troppo veloce Magari A Le fattezze degli eroi Niente vabbè Comunque aspetta Andiamo avanti Vi faccio vedere un pochettino Qua vi scaricherà Come nella Nella modalità normale Adesso poi vi spiego Questa cosa degli eroi Si caricherà la barra Dei colpi speciali Li potete livellare Le torri Tranquillamente Dai Su Arrivate ragazzi Ticci 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 Eh Vediamo Ok Vi si attiveranno Vedete Quando è così Attivo il colpo speciale Pam Ok E andate avanti così Io adesso abbandono Perché Così vi faccio vedere Un'altra cosa Più avanti Poi dopo Vabbè Fate le stelle Quanto più stelle avete Poi avrete i premi Qui è tutta una cosa di premi Man mano che si va avanti Qui fai una cosa Apri una Clicchi da una parte E ti danno premi Fai un'altra cosa Ti danno premi Sempre Vedete Adesso attività Ho preso un premio Così Non lo so perché Ma ho preso un premio Fa figo Sono passato pure Pure di livello Il mio team Ah Perfetto Eh Niente Poi cosa avete Qui in alto avete il vostro team Che voi potete cambiare Cambiare il nome Io ho messo Il mio E E niente Continuando a livellare Vi si apriranno svariate cose Per esempio Vi si apre l'arena E quindi potete giocare PvP Dopo Avrete Più avanti ancora Uscirà fuori La parte RTS Diciamo La parte strategica Cioè Voi avete la vostra città Qui ci sono le città In giro Sparse di tutti gli altri giocatori Ci sono svariate miniere E voi potete andare Conquistare le miniere Attaccare i mostri Sempre con i vostri Con i vostri Diciamo Eroi Per esempio Se io voglio attaccare Questa miniera Faccio attacca Seleziono gli eroi E poi li manda Ad attaccare Fa tutto in automatico Il computer Il gioco Tutto in automatico Tranquillo Io adesso potrei Selezionare solo lei Perché gli altri Sono già in missione Perché comunque Si hanno delle missioni Allora Vi faccio vedere Per esempio Io ho questi qua Che per dieci ore Ancora sono occupati Su una miniera Di argento Se non mi ricordo male Conquistando queste cose Voi andate nell'accademia Avete diciamo Il vostro regno Cioè la vostra città Che potrete aumentare Qui è il classico Potenzio Il regno Scusate Che avrà delle risorse Queste risorse Vi serviranno Per aumentare Questi qua Questi qua Sono dei power up Che danno Ad esempio Questo Aumenta tutti i punti vita Degli eroi Di 62 Se faccio salire Di un altro livello Aumenterà di 11 Il problema È che io adesso Ho la coda di cooldown Qua Già piena Cioè voi potete Accumulare Una coda Di 8 ore Se non sbaglio Io qua Perché ho fatto Questo qua Il regno Che sono tante ore Tutte in una botta E In pratica Questo qui È il vostro regno Diciamo quello principale Questi Adesso aspetta Li raccolgo Però potenziando questi Prenderete più risorse No Ovviamente E ognuno Corrisponde Alla propria risorsa Qua Con queste risorse Poi dopo Aumenterete qui Ma qui avete anche Diciamo Un gestionale Di città Perché già che c'erano Hanno buttato lì Anche un gestionale Da questa parte Invece avete Il crystal dungeon Dove col vostro team Andate ad affrontare Diverse Prove Andate avanti A scalare Il crystal dungeon Facendo il crystal dungeon Trovate gli oggetti Ogni 5 piani Trovate Gli oggetti Che vi servono Per craftare L'inventario Dei vostri Dei vostri Eroi Qua anche Però io non sono Abbastanza alto Sono solamente 27 Ci sarà torneo a punti L'isola della crociata È una prova Vi sono andato a vedere È una prova Dove ci sono 10 stage Da completare Con i vostri eroi Che però Non si ricaricano Tra una battaglia E l'altra Di quello che possono Loro Non avrete ogni volta Tutti gli eroi E diciamo Un survival Avete il mercato Ovviamente Che potete comprare Gli oggetti Come Come molti altri giochi Di questo genere Come stanno andando Adesso C'è il VIP Che praticamente Voi più Diamanti Comprate Con i soldi cash Più vi salirà Il vostro livello Di VIP Qui arriverà fino al livello 15 Ovviamente Con il VIP più alto Avete mille e mille cose Comunque Diciamo Questo era Una carrellata Di Di quello che è Magic Rush Heroes Spero che vi sia stata D'aiuto Che magari vi abbia Invegliato a giocare Se è così Buona fortuna Perché questo gioco Richiede molto Molto tempo Intanto Ci vediamo al prossimo video E ciao ciao